Amici miei carissimi ben ritrovati Cia 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 Madre degli Yogobrios Ma ho capito perché mi avete chiamato Perché voi pensavate che nei panni di Inspector Fragrance potessi essere un po' come un funzionario della Cia Io so bene che cosa volete Perché voi non siete altro che degli ossessionati dalla Cia Perché dovete farvi sentire da tutti che avete il profumo Perché? Perché l'agnagnabilità è un problema decisamente sottovalutato dai poteri forti e dai vari governi Perché non è detto che i governi siano i poteri forti I poteri forti, allora spieghiamolo I governi sono quelli che dettano le leggi, che organizzano la società I poteri forti invece sono quelli di Top 10 fragranze con sciagnagnabile Ciao ragazzi e bentornati su Odoriamola con Mirko L'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile In realtà parlo di fragranze per lo più unisex Però se dico fragranze maschili voi capite che si tratta delle fragranze Se indossate dagli uomini, cosa pensano le donne? Quindi iscriviti al canale e cazzo Io sono Inspector Fragrance Alcuni di voi mi conosceranno per alcuni film del calibro di Alberto Tomba E Inspector Fragrance vanno in giro a sciare che è una bellezza E soprattutto il commissario d'Urex Fragrance con scia significa fragranze il cui odore si sente in maniera prepotente all'interno della stanza Insomma che le persone si accorgono bene che tu hai indossato il profumo e non così Nona posizione per una fragranza di Mancera che si chiama Instant Crush Una fragranza della quale vi ho parlato veramente tante volte Un profumo che ricordiamolo essere non una copia perché non si tratta di una copia Però sicuramente l'ispirazione forte si potrebbe dire così di Baccarat Rouge Questa fragranza riesce in quello che Baccarat Rouge riusciva in parte Cioè nel senso essere persistente ad avere una grande scia Qui la scia è veramente atomica Veramente fotonica come direbbero alcuni Un DNA leggermente più femminile dal mio punto di vista Però la geniabilità è docet e stabilisce che comunque si merita un posto nella top 10 Ottavo posto per una fragranza la cui scia è ormai diventata famosa Si sa, una fragranza di cui ho parlato da tanti anni Una fragranza della quale mi sento anche un po' il padre putativo sul web Mega mare di Orto Parisi Una fragranza chiacchierata, chiacchieratissima, stra venduta Una fragranza stra forte e con una scia stra potente La fragranza sta cominciando ad avere un successo anche extra italiano Quindi in tutto il mondo si sta venendo a sapere che c'è un profumo di Orto Parisi Che è veramente così forte Alcuni lo sanno che è in mega mare Altri lo confondono con Terroni Però sicuramente si sente dire che c'è questa fragranza particolare Di quello che ha fatto Black Afgano È l'acquatico più forte che conosco Ce ne sono altri da scia Mi viene in mente per esempio Amare di Cartusia Molto molto buono Acqua di sale anch'esso molto molto forte Una scia molto molto forte Però mega mare Resta dal mio punto di vista Fra quelli di questa linea Uno tra quelli più complimentati Perché si distingue Addirittura conosco molte ragazze che lo hanno acquistato Un profumo comunque che divide Si tratta comunque di Alessandro Gualtieri Però che stè e quindi ve lo beccate Alla posizione numero 8 Posizione numero 7 per un'altra fragranza Che secondo me poteva stare ancora più in alto L'ho indossato veramente pochissimo Conosco veramente il potenziale Dal punto di vista dei complimenti E magari con il tempo potrebbe ancora salire di qualche gradino Però intanto vi beccate Trastevere di Panteon Roma Trastevere ispirato al quartiere Diciamo centro della Movida Della città di Roma Un quartiere che mi vide protagonista di varie cose Che poi magari racconteremo in live Però una fragranza gourmand Cercate una fragranza gourmand Che si senta proprio da tutte le parti In maniera poderosa E' questa Abbiamo liquirizia La nota del caramello E' una fragranza molto particolare Fragranza speziata Mi ricordo che l'avevo sentita per la prima volta Già diversi anni fa Era stata proprio l'unica di Panteon Che mi aveva colpito Adesso ce ne sono anche altre che mi piacciono Però questa qui sicuramente Resterà per sempre una delle mie preferite Trastevere Alla posizione numero 6 Una fragranza che secondo me E' sottovalutata Perché? Perché è troppo divisiva Però Quando parliamo di persone Che effettivamente poi vengono letti Fanno un complimento Serve una scia potente E secondo me Terroni non può non fare parte Di questa classifica Terroni di Orto Parisi Un tempo Megamare Veniva apprezzato di più Terroni chiaramente Non è una fragranza facile da indossare Ricordiamo che E' un po' come la lava L'odore della lava Qualcosa di bruciato Chiaramente nasi non troppo esperti La troveranno sgradevole Però Quando vi trovate di fronte Alla donna che cerca Insomma la caratteristica particolare La caratteristica particolare Nella persona Sicuramente Terroni E' comunque Una fragranza divisiva E' ben fatta Questo sentore di lava Da cosa viene dato Dal vetiver Qui è protagonista Magari voi non ci credete Ma per le persone Che hanno a che fare Con le materie prime Qua è chiaramente Un vetiver Molto molto Dominante Ma un vetiver Camuffato bene Quinto posto per due fragranze Una scende di posizioni Rispetto all'anno scorso E una invece sale E non se ne va più via Da queste cazzo Di classifiche della scia Rising Orange Di Sergio Scaglietti Modena E A Diamond of Velvet Di Regalian Istanbul Che dire Due fragranze molto diverse Che però entrambe Giocano sulla nota Della mirra Dice che mirra è La mirra Araba A Diamond of Velvet Attenzione Explicit Content Parental Advisor Come scrivevano Sui dischi Delle band metal E di Eminem Perché uno spruzzo Qui Ti bombarda la casa Quindi immaginate La scia atomica Che può avere Profumo Chiaramente orientale Non c'è l'Hood Ma è un muschiato Molto aggressivo Con note di zafferano Rosa E chi più ne ha Più ne metta Più ne mettete E più avrete scia Mentre invece Il Raising Orange È un'arancia Di vaniglia Così si chiamano Le arance Quelle belle grosse Che hanno Quella buccia Diciamo Bianca Molto spessa Non quasi A livello del cedro Però molto spessa Però l'arancia In profumeria È una nota di testa Quindi tende a Esaurirsi A diventare evanescente Nel giro di Poche decine di minuti Mentre invece Qui viene aiutato Da note di fondo Quale il benzoino Grande amico Della persistenza È la mirra Che lo porta Un po' più su E quindi si ha Quasi la sensazione Che l'arancia Resti per tutta la durata Non è così Per una grandissima Illusione Alla David Copperfield Diciamo Io la adoro Lo sapete Grande scia Grandi complimenti Viva la Gnagna E soprattutto Sergio Scaglietti Modena Racing Orange Quarto posto Per una fragranza Anzi Due fragranze Siamo entrati Nell'ambito Dei marini Due marini Molto diversi Diciamo Uno più classico Ma molto forte L'altro Decisamente Meno classico Leggermente più educato Però comunque Sempre dalla scia atomica Siamo o non siamo All'interno della classifica Della top ten Della scia Lorenzo Pazzaia Black Sea E Egg di Nishane Due fragranze E questa È veramente Uno schiaffo marino In faccia Non la pallonata Del bimbo in testa Cioè Tu sei seduto Sullo scoglio Che ti stai scoglionando Diciamo Che stai per andare via E bam Ti arriva Un'ondata Sulla schiena E dici Che due Che due coglioni Venire qua in spiaggia Volevo dire scoglioni L'umorismo Il livello dell'umorismo Si sarebbe alzato troppo Poi non era in linea Con i like Perché voi Non sapete Che se arriviamo A 500 milioni Di miliardi Di milioni Di triliardi Di like Poi vincerete Un milione Un miliardo Ottocento milioni Di vecchie lire Quindi È giusto È giusto anche Seguire i canali Che danno Dei premi A chi li segue In questo caso Un altro premio Che vi do È la conoscenza Di questa fragranza Bombastica Ege di Nishane Che io Veramente Credo che sia Diventata la mia Nuova signature scent Questa proprio è mia Chi me la incula Lo inculo Veramente Lo dico Yuzu Liquirizia Fragranza marina Un profumo Pazzesco C'è veramente Una fragranza Che secondo me Nel futuro Sarà proprio All'apice Di tutte Le classifiche Possibili Di tutto Ege di Nishane Io Sono innamorato Di questa fragranza Quindi è inutile Perché non l'hai messa Al primo Perché la mia abilità Viene sempre Prima di tutto Secondo me ci sono Altre fragranze Che la superano Per esempio Arabian Stonka Al terzo posto Dici Mirko Ma perché mi fa vedere Intense pepper Non rompete il cazzo Non è che posso avere Sempre tutte le bottiglie A disposizione O altrimenti Non esce il video Fate voi Comunque Arabian Stonka Di Montale Una fragranza Ottimo Primo approccio Al mondo Della profumeria Di nicchia Perché Spendete leggermente Di più Ma ci avete Una persistenza bomba Che è una cosa Molto interessante E si sente Non è quel dolce Zuccherino E quel dolce Dai andiamo a scopare Perché sei dolce Da morire You are sweet As fuck Diciamo E' il canale tecnico Quindi è inutile E in realtà Ho detto cose Di chimica In italiano Però voi Non sapete tradurre Dall'inglese E quindi Diciamo Mi prendo gioco Dell' Dell'analfeba Analfe Analfebatismo Analfe Analfe Analfabetismo Funzionale Ecco Vedete Mi son perso Un attimo Nel mio Analfabetismo Secondo posto Medaglia d'argento Per una fragranza Che molti dicono Mirko In realtà Io ne ho parlato Poche volte Ma si vede Con la forza Talmente necessaria Che le persone Dicono Mirko Secondo me Tu sei questo profumo Io sono questo profumo Comunque Un sacco di persone Dicono Mirko Io mi sono affezionato A questo profumo Perché tu mi hai Fatta affezionare A questo profumo Ud Satin Mood Di Maison Francis Curdijan Io d'altronde Vi faccio innamorare Di tanti profumi Perché Perché vi porto Risultati Se io vi dico Questo profumo È gnagnabile È improbabile Che sia gnagnabile Ma non perché Ve lo dico io Perché poi Voi li andete Acquistare E lo vedete Davo E dice Però cazzo Ha ragione Che era gnagnabile Anche qui orientale Scia veramente Pazzesca Racconto Praticamente Sempre l'aneddoto Di quella volta Che ero in camera D'albergo L'avevo spruzzato Sulla sciarpa D'inverno Perché è una fragranza Per lo più invernale Mentre io torno Il giorno dopo Dal lavoro Io dal piano di sotto Sentivo in albergo Al terzo piano Ho detto Ah guarda C'è qualcuno Che ha Oud Satemud addosso Invece era la mia sciarpa Che ancora Da dentro la stanza Faceva odore Di Oud Satemud Quindi Immaginate La scia atomica Che ha questo profumo Sicuramente Se hai cercato Una fragranza Anche qui Non è un Oud Classico Fecale Diciamo Come può essere Talvolta l'Oud Autentico Vero Naturale Qui è un Oud Sintetico Ma sicuramente Ben fatto Un accordo Molto molto Educato Se amate Dei profumi Dolcini Ma non troppo Non dei gourmand A tema Oud Sicuramente Oud Satemud Extra De parfum Esiste una versione De parfum Che posseggo pure Ma se cercate La scia Con l'extra Avete vinto tutto Terminiamo Con Il Re Confermato Rispetto all'anno scorso Come vedete A livello di posizione Non è cambiato molto Dalla classifica Di due anni fa Perché fare i profumi Con grande scia È più difficile Di fare i profumi Con persistenza Perché Vabbè È inutile Che vi sto a spiegare Comunque sappiate Che è così Erba pura Xerjof Confermato È un super fruttatone Uno dei profumi Stracopiati Più copiati Della storia Veramente Esistono Credo Un centinaio Di dupes Però The original Is always The original Non c'è storia Questo è un profumo Dalla scia Pazzesca Lo sentiranno tutti Se volete farvi Vedete che giro i pollici Come Donabondio In realtà sono gli indici Però ho detto che Soffro di Analfabetismo Funzionale È quella cosa Per cui Tu leggi Un titolo Subito dopo Subito commenti Senza aver sentito O letto completamente In tutto il contesto Perché l'importante È aggredire E in questo caso La fragranza Vi aggredirà La stanza Tutte le persone Che ci sono intorno E voi Verrete indicati Come colui Che c'ha il profumo Quindi se è questo Che volete È sicuramente Comunque Un profumo Che si porta Un carico di complimenti Non indifferenti Io devo dire La posseggo Però per me È chiaramente più femminile Però la storia Mi ha insegnato Che quando un uomo La indossa La ragazza dice Cazzo È veramente Pazzesco Tante volte Coppie di fidanzati Anche in negozio Sono venuti E la ragazza Ha voluto Assolutamente Che lui Acquistasse per sé Questo Questo erba pura Qualcosa vorrà pur dire Poi Chiaramente Se hanno chiavato o no Sono cazzi loro Anzi Fattacci loro E chi siamo noi Per andare a Spiare Nella loro Privacy Bene Finisce questo Enesimo video Di Odoriamola con Mirko Spero che Alcuni di voi Che non sono convinti Ancora di iscriversi A questo canale Poi lo facciano Perché comunque È gratis E vi porto il servizio pubblico Eventualmente Fatemi sapere Nei commenti Quali sono le vostre Fragranze Con grande scia Che riempiono I vostri cuori Quotidianamente E ci vediamo Odoriamola con Mirko Se non sci Insieme alla CIA In Spectral Fragrance Godi Solo a metà